Spicca il volo dalle lagune e dal mare di Venezia prima di raggiungere le piste di Cortina d'Ampezzo, dove tra poche ore si apriranno i campionati mondiali di sci. Il marchio turistico Veneto, The Land of Venice, attraverserà così i cieli per un'operazione di grande valore comunicativo e simbolico, promuovere la regione nella sua interezza. Ecco perché in mattinata la grande mongolfiera è stata presentata al rido dagli assessori al turismo Caneo regionale e Venturini comunale, alla presenza anche dell'assessore Zuin, del presidente della municipalità, Goberti. Dobbiamo comunicare a livello internazionale che dietro a Venezia c'è un territorio da scoprire. Questa è la volontà della regione Veneto e con questa mongolfiera noi andiamo a brandizzare e a promuovere tutto il territorio regionale. Si parte con i mondiali, mondiali a porte chiuse? Sì, purtroppo i mondiali sono a porte chiuse, però sarà un evento mediatico internazionale molto importante perché sono tante le tv collegate, i media collegati in genere e quindi ci darà la possibilità di promuovere non solo Cortina e le Dolomiti ma ripeto tutto il Veneto perché noi saremo presenti anche in sede con Casa Veneto. Ecco una proposta concreta per far ripartire al più presto tutto il grande comparto turistico. Noi abbiamo chiesto alla Commissione Turismo a Roma che intervenga presso il Ministero per dare una priorità alla categoria dei dipendenti, di coloro che lavorano all'interno del mondo turistico proprio perché vogliamo lanciare un messaggio internazionale del Veneto Covid Free. L'assessore Venturini ha ribadito la grande sintonia tra comune e regione e il significato dell'iniziativa promozionale. Significa ribadire il legame tra Venezia e la terra del Veneto e quindi l'importanza di partire da queste terre per rilanciare l'intero sistema paese e significa anche un sentimento di risollevarsi, rialzarsi, essere un po' più leggeri essere pronti quindi a intercettare la nuova fase di ripartenza che ci aspetta nei prossimi mesi. Già col Carnevale iniziamo a muovere le prime cose per poi iniziare da marzo un anno intero di eventi legati ai 1600 anni che vedranno poi il culmine nel Salone Nautico, nel Redentore, nella festa dell'assenza e nelle grandi celebrazioni.